Grazie a tutti. Che senso ha? Se ha ancora un senso, questa chiamiamola segnaletica stradale, vero politica. E qui io devo dire che come vecchio ex deputato onorevole indipendente, devo ripetere cose che già dicevo 30-40 anni fa, vale a dire vi sono delle iniziative di riforma che sembrano di destra e che in realtà sono di sinistra. Ci sono dei tentativi di riforma di sinistra che in realtà sono di destra. Io ricorderò sempre quando alla Camera cercai, mi battei contro la nazionalizzazione della Edison che poi diventò Enel, come l'elettricità di Stato. E presentai invece una proposta di legge firmata insieme con me anche da Ugo Lamalfa, il vecchio Lamalfa e qualcun altro, per controllare, non per nazionalizzare, ma per controllare la distribuzione dell'energia elettrica, perché come produzione la Edison andava benissimo, era tecnicamente molto avanzata. No, non fu accettato, perché non fu accettato? Perché la nazionalizzazione era una specie di grande riforma, ciò che è privato diventa pubblico, quindi grandi interessi, quindi io domandavo abbasserete le tariffe dell'energia elettrica? Sarà un beneficio per i cittadini? No, no, sarà una gran cosa. In realtà è diventato poi un grosso carrozzone burocratico, più o meno nepotistico, più o meno anche ben gestito, però in sostanza noi semplicemente dovemmo anche pagare miliardi ai vecchi azionisti della Edison. Ci sono riforme apparentemente di sinistra che sortiscono effetti di destra. Ci sono invece delle riforme di destra, apparentemente di destra, per esempio una certa autonomia operativa, per i sindaci poniamo, nuovi poteri che sono invece di sinistra, nel senso che possono permettere alle autorità locali di non soggiacere, di non subordinarsi, lo fanno troppo spesso, agli interessi localmente prevalenti. Quindi la differenza tra destra, centro e sinistra non è più così evidente, anche se ci sono tradizioni evidentemente diverse, soprattutto per il sistema fiscale e così via. Ma voglio dire un'altra cosa, nel caso italiano non dimentichiamo mai che questo è un paese in cui si è affermato il trasformismo dai tempi di De Pretis, di Agostino De Pretis, i primi decenni dello Stato italiano unificato politicamente. Che cos'è il trasformismo? Stiamo attenti, il trasformismo è proprio quella confusione fra destra e sinistra e centro, per cui non ha più senso parlare di sinistra o di destra, perché gli uomini di destra parlano come quelli di sinistra e quelli di sinistra fanno le cose che fanno quelli di destra con delle parole in sostanza che non corrispondono a ciò che effettivamente fanno. In realtà oggi fra destra e sinistra la sola vera differenza che si può notare è fra coloro, parlo di amministratori, di politici, di ministri, di sottosegretari, coloro che comprendono il meccanismo attuale dello sviluppo della società moderna e dell'economia di oggi e coloro che invece ancora si basano su vecchie parole d'ordine che hanno fatto il loro tempo. Questo che cosa significa? Significa che probabilmente in mancanza di un aggiornamento scientifico vero, politologico e sociologico noi rischiamo di avere semplicemente un incontro al buio di tutte le forze politiche, non vediamo più la differenza tra i blocchi, in fondo finiscono per corrispondersi al punto che anche elettoralmente nell'ultima elezione 9-10 aprile abbiamo avuto la riprova che il 50% vota per un blocco e un altro 50% vota per l'altro blocco, ma in fondo c'è il rischio che in fondo si corrispondano i due blocchi. Può darsi che questa sia una tendenza che io chiamo isomorfica, cioè una tendenza verso l'equalizzazione delle forze politiche che già sperimentiamo, la vediamo negli Stati Uniti, fra partito democratico da una parte e partito repubblicano dall'altra le differenze vere sono solo nella tradizione, vale a dire nel linguaggio usato, nei discorsi, ma non c'è più una reale differenza. E forse anche per l'Europa questo è il destino di domani, perché cadute le ideologie che marcavano duramente destra e sinistra, in fondo il giudizio tecnico non può che essere la base di un consenso che coinvolge sia gli uomini della destra che gli uomini della sinistra. Prendiamo la questione della TAV, i treni a grande velocità in Val di Sul, tanto per dirne una, e lì non si tratta più di dire favorevole o non favorevole, si tratta di vedere quali sono gli effetti, gli investimenti sul clima, sull'ambiente, che cosa determinerà tutto questo? Quando noi abbiamo fatto una vera e propria stima tecnica fondata, quando sia questo distribuita, discussa, fatta propria da tutte le amministrazioni a tutti i livelli, evidentemente non ci può che essere una convergenza comune oppure una divergenza altrettanto comune. Quindi l'avvenire della vita politica, se vogliamo, mi consenta, io adesso chiedo scusa, ma faccio un discorso quasi di fantapolitica, un tentativo di previsione a media e a lunga scadenza, con la caduta delle ideologie, noi stiamo andando verso una vita politica vissuta come amministrazione. Quale sarei il problema? E questo è il punto. Amministrazione come governo delle cose e autonomia delle persone, mentre oggi noi abbiamo un'amministrazione che è vessazione delle persone e godimento privatistico delle risorse. Questo è il punto, punto fondamentale. sostituire al governo delle persone subordinate l'amministrazione razionale delle cose. Com'è possibile far questo? Con un nuovo concetto del potere che in Italia è ben lontano dall'esistere. Noi concepiamo ancora il potere come appannaggio personale privato. Se uno perde il potere, primo ministro che non è più primo ministro, gli sembra che si spalanti davanti a sé solo la prospettiva del suicidio, perché la sua personalità si è fondata sulle questioni di potere come... Il potere non è un appannaggio personale, privato. Il potere va vissuto giorno per giorno come funzione razionale, collettiva, cioè il potere come servizio. E allora quando uno esce al potere, tranquillo, torna a casa, fa una passeggiata al parco, legge un buon libro, ascolta buona musica. E' un individuo... Quando lo richiamano al potere, torna. Potere come servizio. In Italia questo non è assolutamente... Capito? perché in tutta la nostra storia il potere è stato vissuto come potere sovrastante, prevaricante, contro gli altri, non per gli altri.